Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring. Ring, dunque oggi è una serata ricca e abbiamo molti temi di cui discutere. Tra poco vediamo gli aggiornamenti, c'è questa bozza del governo, tra l'altro sul cosiddetto certificato verde. È appena stata battuta una notizia importante che chi falsifica questo certificato verde, del quale parleremo tra poco per gli spostamenti tra regioni, rischia addirittura il carcere. Però insomma ci sono molte cose riguardano la scuola, si va incontro un po' all'appello dei governatori, quindi nelle regioni gialle e arancioni la scuola deve essere almeno al 60% in presenza, può arrivare al 100%, è l'obiettivo, lo dice anche adesso il presidente della conferenza delle regioni Fedriga, ma almeno si va incontro alle richieste dei governatori che si sono trovati di punto in bianco una presenza a scuola al 100% con un trasporto pubblico invece che ha capienza al 50%. Ecco, nelle zone rosse si va invece dal 50% al 75% per la presenza a scuola. Resta il coprifuoco e questo è il sondaggio che vi poniamo questa sera, perché si riapre come sapete il 26 per quanto riguarda i locali che hanno uno spazio all'aperto e quindi pranzo e cena, anche il coprifuoco resta alle 22, giusto, sembrava anche che potesse arrivare a un'ora in più di libertà alla sera per tutti quanti, invece questa bozza resta confermato alle 22 anche se c'è molto dibattito. Ed è il sondaggio per voi questa sera, ha già notevoli numeri di partecipazione, ve lo posso anticipare, dal pomeriggio di oggi, quindi secondo voi deve restare alle 22, giusto? Sì, no, ovviamente invece con il numero in rosso sentirete il segnale di occupato, ma ha registrato la vostra preferenza. Vedete il titolo perché, e mi devo scusare con tutti voi, non sono uno che ama i pacchi all'ultimo minuto, nemmeno quando si tratta di giochi. Però avevamo previsto la presenza dell'uomo di cui parlano un po' tutti in questo momento, la partecipazione alla manifestazione di Corendiano, era una piazza di Novax, era una piazza di imprenditori, era una piazza di persone stanchi, era una piazza di No Mask, che cos'era? Volevamo fare il punto questa sera un po' anche con il cosiddetto medico ribelle, quindi Riccardo Shumsky, di cui si è parlato molte volte anche in questi mesi. Non è che volessimo fare niente di particolare, però era semplicemente che si potesse confrontare magari anche con noi, forse con una platea informata, non un pubblico confortevole, come può essere quello di altre interviste, o dei social che ti costruiscono un sostegno attorno. Bene, sapete che Shumsky rischia provvedimenti da parte dell'Ordine dei Medici, che da tempo lo tiene d'occhio, una multa insieme ad altre 39 persone per questa manifestazione, multa di 400 euro, e la perdita forse anche dell'accreditamento da parte della Regione in quanto medico di base. E oggi vi farò sentire l'intervista registrata, insomma, in un più comodo servizio del telegiornale. Ma insomma, peccato davvero, perché avremmo voluto chiedere di tante cose, anche quelle che ha sbandierato più volte in questi mesi sulle sue pagine social e che rientrerebbero nei protocolli, perché questa sfida, lui che è anche autorità di salute e di sanità nel suo comune, perché è il sindaco di Santa Lucia di Piave. Mi dispiace davvero che all'ultimo abbia detto, e questo è rispettabile almeno, che il suo avvocato gli ha consigliato per ora di tacere, insomma, dopo le ultime dichiarazioni in attesa dei provvedimenti. Mi sembrava un po' più agguerrito in piazza e anche, devo ammettere, nell'intervista di oggi di Lucio Zanato. Avremmo voluto capire perché, per esempio, tra i tanti suoi post e anche le proteste che, come ha detto lo stesso governatore Zaia, sono legittime, l'importante è che rispettino le regole almeno vigenti, soprattutto ce le aspettiamo magari da un medico, ecco, che può essere preoccupato della propria popolazione, come quella di altri comuni di provenienza di chi ha partecipato a quella manifestazione. perché parli di diretta volontà di non curare le persone, di lasciarle morire, forse per fare numero, ecco, quando parla del ricorso, tra l'altro, di cui molto si è discusso, e anche con polemica da parte dell'AIFA per le famose cure domiciliari, tachipirina e vigilanza. quando scrive anche, forse con ironia, curare chi ha sintomi dopo 15 giorni dal vaccino, chi ha sintomi Covid da 15 giorni dal vaccino, come dire, non ha prezzo fare una cosa di questo genere, però, almeno, io non sono medico, non mi pare nessun altro dei presenti, ma forse manca un pezzo a questa sua dichiarazione, a questo suo post Facebook, forse un pezzo del quale anche i suoi tanti che condividono e commentano che forse hanno un'impronta ormai definita dovrebbero sapere e capire, basta leggere un qualsiasi giornale nell'ultimo, non dico anno e mezzo, ma almeno sei mesi, che gli anticorpi ci mettono qualche giorno dalla prima dose, prima di formarsi. Lo so io, sono certo che lo sappia anche Shumsky che può completare almeno questa sua opinione sui social. Non ho altro da dirvi, se non scusarmi ovviamente per questa mancata presenza. Ci piacerebbe capire anche se c'è un disegno politico nel suo obiettivo e augurandogli di trovare un accordo diciamo anche con l'ordine dei medici di ricomporre questa frattura e anche con l'Ulss2 che vedrà lunedì, credo nella persona, insomma del direttore generale Benazzi o chi per lui e quindi sarebbe forse anche utile fare un confronto ecco qui nelle prossime settimane. Bene, ho tolto anche troppo tempo, saluto e ringrazio Marco Bonet, Corriere del Veneto che è collegato con noi come ogni martedì, saluto e ringrazio davvero Marco, ciao ben trovato, torno da te subito. Davide Tramarin, segretario del PD a Padova, buonasera Tramarin, buonasera, buonasera a tutti. Con noi in studio Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega buonasera e Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia buonasera coordinatore a Vicenza, giusto Forte non sbaglio? membro dell'Assemblea nazionale membro dell'Assemblea nazionale, giusto o sbagliato. Allora, tra poco sarà con noi anche un altro imprenditore così come facciamo un po' tutte le sere, invece ha un bar, una gelateria in pieno centro a Padova, ieri avevamo un ristoratore di quelli che lo spazio all'esterno non ce l'ha. Però, lasciando questo titolo, vi faccio vedere e sentire almeno che cosa ha detto oggi ai nostri microfoni il medico ribelle, così lo abbiamo definito stasera, Riccardo Shumsky. Mi piacerebbe sapere da Marco Bonet lui che domande avrebbe voluto fare. Vediamo. Non è che Benazzi può imporre sulla mia salute determinate questioni. Quindi è anche disponibile a farsi sospendere? Io non voglio sospendere perché qua voglio ben vedere questi 1.500 a chi li danno. Però vedremo, qualcuno mi farà una debito, ci farà farmi un processo prima, potrò difendermi. Vaccino entro 5 giorni altrimenti sospensione dell'attività di medico di base. Risponde così Riccardo Shumsky ai possibili provvedimenti preannunciati dal direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi, soprattutto dopo quanto accaduto domenica a Conegliano. E sulla manifestazione Shumsky precisa. Io non ho organizzato niente, io sono stato chiamato come ospite nel fatto di assembrarsi tra gente scorciuta non va bene quindi questo non è che sto a dire che dobbiamo farlo regolarmente. Posso anche capire che una manifestazione per la libertà sia stato un modo tra le righe oltre le righe per dire che ne hanno le scatole piene. Per questo da sindaco oltre che da medico risponde così al prefetto di Treviso. Dico al prefetto che io sono uno di quei sindaci che con lo Stato ha fatto un mucchio di cause e le sta anche vincendo. Non do nessunissimo esempio, l'esempio è quello che do come medico che cura. Su un fatto Shumsky vuole essere chiaro. Lei comunque non è negazionista, non è no-vax. Io non sono mai stato a no-vax. Io vaccinavamo quando non c'erano i vaccini per il morbillo obbligatori, per la pertosse perché li ho visti. Io dico che se tu mi presenti una cosa nuova io analizzo e voglio vedere se funziona. Se tu hai anche accelerato il tempo di sperimentazione dicendomi che va bene così posso di sentire per la mia persona, per la mia persona. Perché non c'è nessuno a cui paziente a cui ho detto che non deve vaccinarsi. Infine, dissenso anche per il primo giorno di vaccinazioni fatti dai medici di base. Io non ho aderito, io adesso sto esaminando la lista dei miei pazienti ultraottantenni che io comunicherò all'azienda e poi prevederanno a mandare il personale idoneo. Poi io francamente stamattina ho fatto quattro ore di ambulatorio cioè quella gente lì la mandavo alla guardia medica. Allora, e ovviamente se dovesse cambiare idea ma insomma rispetta quanto suggerito dal suo avvocato Shumsky apertissima e prontissima in qualsiasi momento insomma dagli spazi o se volesse intervenire. Marco, che domanda avresti voluto fare al sindaco di Santa Lucia? Ma gli avrei chiesto questa storia del protocollo con l'idrosso clorochina che è quello che lui sta propagandando ormai da molto tempo sui social network e che ha generato largo seguito tra i suoi pazienti e non solo e che però è stato smentito dalla commissione tecnica che di questo si occupa per conto della regione e cioè per fare un breve resumere della questione Shumsky appartiene a quella schiera di medici che sostiene che l'idrosso clorochina risolve se non tutti i problemi quasi legati al covid e questo ha stimolato tra i pazienti moltissimo dibattito tanti ovviamente poi ci vedono dietrologie complotti ma allora c'è il farmaco che potrebbe guarirci non ce lo danno non ce lo danno perché vogliono farci vaccinare e via con tutta la storia delle vaccinazioni e ha predisposto un protocollo peraltro vincendo anche un ricorso altare insieme ad altri medici questo protocollo però che per lungo tempo si è detto essere il protocollo dei miracoli osteggiato dai poteri forti della medicina e da Big Pharma in realtà non è stato affatto osteggiato non è stato neanche tenuto nascosto non è stato tenuto in nessun cassetto è stato esaminato dalla commissione di esperti che per conto della regione valuta i protocolli di cura che poi devono essere utilizzati dai medici di base e questi medici che non sono credo io meno esperti di Suzumsky ci sono dei medici di base in questa commissione ma ci sono anche degli infettivologi ci sono dei pneumologi insomma vari esperti della disciplina l'hanno ritenuto un protocollo non applicabile non corretto insomma per loro di nessun interesse attenzione chiudo dicendo che anche questa cosa per cui si pensa sempre che Suzumsky come altri medici come lui vengano appunto osteggiati dai poteri forti in realtà non è così perché Suzumsky è libero di dare ai suoi pazienti le cure che ritiene basta che gli faccia firmare il consenso informato per cui nessuno di questi pazienti è mai stato osteggiato dall'usare l'idrossiclorichina piuttosto che il cortisone piuttosto che l'aspirina sono sempre stati liberi di fare le cure che ritenevano più appropriate ovviamente però il medico se ne assume la responsabilità cioè se lui sceglie di uscire dai protocolli ufficiali e di dire ai suoi pazienti usate questo farmaco piuttosto che quell'altro lui se ne assume la responsabilità e il paziente firma un consenso informato per cui dice ok mi sono state date tutte le informazioni del caso io scelgo di curarmi con l'idrossiclorichina e di non farmi ricoverare in ospedale per esempio con l'ossigenoterapia tutto nella massima trasparenza e tutto nella massima libertà per cui e chiudo quello che io non capisco della vicenda su Zumsky è questa sorta di e di questo avrei voluto parlare con lui di aurea di eroismo che lo circonda come se lui fosse l'unico che ha capito cosa fare in mezzo a un mondo di cretini e di stupidi o di persone che vogliono di medici che vogliono il male dei loro pazienti non l'ho capita ecco un peccato non averne potuto parlare con lui infatti questo mi spiace davvero tra l'altro l'idrosse colorchina che è nei protocolli anche del Veneto e tra l'altro col solo consenso informato come dici tu e da tempo mentre per esempio nel Piemonte spesso sbandierato serve un elettrocardiogramma invece prima di questa somministrazione ecco quindi è un po' più rapido diciamo in Veneto rispetto al Piemonte cioè vabbè peccato davvero dopodiché ho visto ed è giusto dire anche viva Shumsky che ragazzi ognuno deve dire e può dire quello che vuole qui a Ring è sempre nel rispetto delle opinioni di tutti e altro dato pubblicato più volte insomma non era ai vertici delle cure mi pare in provincia insomma almeno dati pubblicati da altri quotidiani mi pare il gazzettino in particolar modo insomma più volte abbiamo ospitato i campioni definiamo così delle cure domiciliari mi perdonerete ma proprio qui a Ring per aiutare a capire chi segue da casa che cosa si fa in caso di Covid che ha spaventato un po' tutti noi allora ricominciamo con Zaia ti chiedo Tony rifacciamo vedere anche il sondaggio e cominciamo appunto con le novità di oggi eccolo qui il coprifuoco resta alle 22 secondo voi è giusto sì o no sentiamo Zaia cosa ha detto oggi vediamo tutte le novità appunto della bozza del governo per quanto concerne dal 26 in poi fondamentalmente sentiamo Zaia io spero che in due settimane due settimane e mezza finiamo anche gli over 70 chiusa la partita degli over 80 il 91,4% ha ricevuto una dose la campagna vaccinale in Veneto procede su due fronti gli over 70 che sono fatti sia dai medici di medicina generale sia all'interno dei centri vaccinali e persone fragili queste sono i due target le due categorie che le aziende stanno vaccinando nessun altro target sono 1161 su 3.008 al momento i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni nei propri ambulatori o nei centri vaccinali complessivamente 39.000 le somministrazioni fatte dalla categoria un gioco di squadra che ha permesso anche oggi al Veneto di confermarsi primo in Italia per le vaccinazioni effettuate 93,3% fratto il bollettino non è neanche aggiornato di magazzino inoculato considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna in via Prudenziale 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzate di non averle per i richiami intanto domani o giovedì il presidente Zaia come aveva annunciato nei giorni scorsi presenterà il macro crono programma prudenziale delle vaccinazioni dei Veneti in base all'anno di nascita questa mattina il commissario Figliuolo ha assegnato a ciascuna regione un target giornaliero di somministrazione in base alle previsioni di forniture di dosi noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno per arrivare secondo sempre le indicazioni insomma che ci dice il commissario il 29 di aprile alle 40.000 secondo il commissario vaccinazioni al giorno in Veneto noi c'eravamo già arrivati molto vicino perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000 intanto migliora anche la situazione nei reparti Veneti che permette di rivedere la riorganizzazione ambulatoriale ospedaliera per un ritorno alla normalità il Veneto è in fase 3 cioè è nella fase meno problematica e se viene confermata si sblocca tutto di fatto in settimana in settimana allora così Luca Zaia oggi dunque intanto Sandonà su queste misure mi sembra che si sia andato incontro poco soprattutto la richiesta della Lega in particolar modo per quanto concerne il coprifuoco che è quello che noi stiamo domandando tra l'altro ai telespettatori stasera voi continuate a spingere perché sia almeno fino alle 23 soprattutto per i ristoratori chi apre questi locali da lunedì e quindi deve cenare in fretta perché alle 21 al massimo mi sa che se ne devono andare dai locali noi abbiamo fatto le richieste sono state portate in consiglio dei ministri ma poi evidentemente si è dovuto anche mediare diciamo con quello che era così però è stato prodotto un decreto legge che ha che ha avuto come effetto le prime aperture e poi una progressiva nel corso delle settimane diciamo riduzione delle restrizioni che ci saranno insomma nei negozi nel campo della ristorazione si sta programmando anche la stagione turistica quindi avevamo chiesto anche di dare delle date certe per quel che riguardava per esempio l'apertura della stagione turistica l'apertura degli stabilimenti balneari l'apertura delle palestre insomma un sacco di attività che sono rimaste ferme in tutti questi mesi quindi i risultati il lavoro diciamo della Lega c'è stata e la spinta verso le categorie economiche è chiaro che dall'altra parte c'erano i dati che sono migliorati nelle ultime settimane ma ci troviamo davanti a delle ci troviamo davanti diciamo a dei dati a volte anche drammatici quindi insomma la giustificazione di quello che è stato l'ultimo periodo c'era tutta insomma allora il paradosso è che crescono al sud oggi lo raccontavano anche la futura presidente della società dell'associazione epidemiologi italiani e siamo a un livello mi pare ancora di 160 contagi per 100.000 abitanti è la differenza tra regioni e regioni quindi di fatto al sud in realtà questi contagi crescono cosa ne pensa forte poi sentiamo Tramarini chi falsifica il certificato verde adesso vi spieghiamo cos'è per gli spostamenti rischia anche il carcere quanto prevede la bozza del decreto legge con le nuove misure che sarà in consiglio del ministro delle prossime ore in particolare il comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i reati di falso che hanno oggetto la certificazione verde covid-19 le pene previste gli articoli del codice penale sono aumentate di un terzo quindi si prevede anche il carcere forte vedete che i tentativi sono tutti apprezzabili il problema che rimangono tentativi anche sulla questione delle riaperture perché abbiamo visto che anche le riaperture non hanno sicuramente avvantaggiato in questi termini le categorie interessate soprattutto gli storatori per il fatto che si è permesso poi di utilizzare solamente gli spazi esterni dei locali ci sono tanti locali che non hanno spazi esterni e tanti locali che sono anche in zone dove ancora adesso magari mangiare fuori in alto piano dei sette comuni a tre gradi non deve essere certo agevole sulla questione del coprifuoco poi però perdonatemi la situazione è imbarassante noi come Fratelli Italia gli abbiamo chiesto che il coprifuoco venga totalmente eliminato perché il coprifuoco non ha delle basi scientifiche per essere applicato per il semplice motivo che innanzitutto io non capisco per quale motivo se voglio uscire a mezzanotte alle 11 e mezza a fare un giro in macchina a una passeggiata non posso andare a fare una passeggiata non capisco perché se sto in un locale con il distanziamento dispositivi di protezione individuale e tutto quello che prevedono le normative sapendo bene ormai che i dati scientifici ci dicono che il contagio all'aperto è praticamente residuale non capisco perché alle 9 e mezza posso stare lì ma alle 10 e mezza non posso stare nello stesso locale cioè quindi il coprifuoco è un'aberrazione una limitazione forte alla libertà individuale che però non ha una spiegazione razionale quindi non capisco sinceramente perché continuiamo di insistere col coprifuoco è apprezzabile il tentativo di spostarlo alle 23 ma è proprio il principio del coprifuoco cioè andrebbe cancellato quella limitazione della libertà individuale senza una reale motivazione che è incomprensibile scusate Tramarin lei che pensa? beh su questo tema specifico del coprifuoco io credo che sia necessario provare ad approcciare un po' nel complesso la situazione secondo me è interessante osservare quello che è successo in Inghilterra dove come ricorderete tutti molto bene il premier Johnson fu addirittura all'inizio di tutta questa tragedia che stiamo vivendo uno dei fautori insomma delle scelte peggiori pagate anche da lui stesso purtroppo con il recovery in ospedale e poi con tutto quello che è avvenuto in Inghilterra però l'Inghilterra ha capito subito la lezione ha reagito molto bene e come sappiamo oggi sono giunti grazie ad una campagna vaccinale veramente ben fatta e rapida e estremamente diffusa a permettersi stando a quello alle immagini che ci arrivano dall'Inghilterra di poter tornare a frequentare in maniera assolutamente libera i locali all'esterno ovviamente e comunque quindi a respirare una normalità che a noi da lontano sembra quasi un lontanissimo ricordo ma che speriamo ovviamente di raggiungere per cui rispetto quindi anche al tema del coprifuoco e a tutte le decisioni che vengono prese in questi giorni dal governo io credo che la regola della gradualità nel momento in cui si sta procedendo con la campagna vaccinale ovviamente noi non siamo ancora al livello raggiunto dell'Inghilterra come ha parlato Draghi ha parlato di un rischio calcolato ebbene se il rischio calcolato deve essere per cercare di dare respiro alle categorie che giustamente chiedono di lavorare cerchiamo di applicarlo con gradualità io auspicherei anche che il caldo aumenti esatto che serva ma quest'anno non ci danno la certezza siccome possiamo dire quest'anno addirittura parlando di covid rispetto a quello dell'anno scorso non ci danno nemmeno la certezza perché con le varianti non si sa lo sostengono soprattutto Galli Crisanti quale effetto possa avere prego Tramani si beh riguardo alle varianti ieri sera per esempio ho sentito in tv il primario di pneumologia se non ricordo male del Gemelli di Roma che diceva come alcuni studi voi sapete la scienza purtroppo è molto empirica in questa fase bisogna basarsi sui dati che arrivano e cercare di volta in volta di confermargli man mano che il tempo passa però questo primario diceva che per ora pare che i vaccini siano positivi anche rispetto alle varianti di sicuro rispetto alla variante inglese che come sappiamo purtroppo ormai occupa la maggior parte dei contagi nel nostro paese però anche a quanto pare nei confronti di altre varianti quindi questo è un aspetto che ci deve dare fiducia e che ci deve incentivare ulteriormente a sensibilizzare sul tema della vaccinazione a procedere il più possibile spediti allora intanto voglio ricordare che io apro oggi gli aderenti a questa a questa protesta che insomma si ripresenta ciclicamente hanno fatto sapere come il 26 apriranno tutti comunque anche coloro che hanno i locali senza spazi esterni insomma hanno comunicato oggi pomeriggio Marco che pensi tu per esempio oggi il coprifuoco è antistorico a maggior ragione e poi un po' tutte le altre mosse che sono fondamentali credo in particolar modo per le regioni le famiglie gli studenti nel rientro nel rientro a scuola partiamo dal coprifuoco ma io devo dire che tra tutte le misure che sono in atto in questo momento il coprifuoco non mi pare la più tragica francamente cioè dovrà essere a casa alle 10 di sera ma ancora magari per qualche settimana per un paio di settimane prima che diciamo così esploda l'estate e quindi il caldo e anche di conseguenza la voglia magari di star fuori un po' di più ecco non so se la metterei proprio in cima alla lista delle mie priorità allungare di un'ora o di due ore le rientro a casa la sera mentre ci sono ancora ristoranti e bar che chiusi palestre chiuse piscine chiuse attività che non ripartono ragazzi che non possono tornare a scuola oggi lo dicevi tu prima è confermato cioè il punto di mediazione raggiunto dalle regioni col governo è quello per cui i ragazzi delle superiori ancora non potranno tornare al 100% sui banchi di scuola ecco mi preoccuperei più che altro di questo più che dalla possibilità di stare al ristorante un'ora in più a bere l'ultimo bicchiere di vino rispetto al resto sì cioè voglio dire se ne può parlare a lungo non so se vogliamo farlo adesso il tema delle scuole a me pare una cosa enorme e credo che tante famiglie si stiano domandando per quale motivo in Italia si arrivi sempre al giorno prima per risolvere il problema del giorno dopo cioè io mi guardo bene cioè si riparte lunedì no? quindi siamo sì cioè io mi guardo bene dall'attribuire colpe al governo al ministro alla regione al comune all'azienda del trasporto pubblico però voglio dire cioè com'è possibile che in Italia ci si riduca a discutere il lunedì e il martedì di come far tornare in classe i ragazzi il lunedì successivo cioè questa è una roba incredibile a cui stiamo assistendo ormai da un anno e lasciami dire in particolare su questo tema della scuola cioè io ci credo che i ragazzi sono incazzati scusate il termine ma loro veramente sembrano essere proprio l'ultima delle preoccupazioni ma chi se ne importa del coprifuoco cioè ci sono i ragazzi che non vanno a scuola da mesi e sistematicamente quando arriva il momento di riportarli in classe non un mese prima tre mesi prima sei mesi prima quattro giorni prima cinque giorni prima oddio non ci sono gli autobus sono sbagliati i conti della capienza riunione d'urgenza portiamo la dad facciamo la dad 50% 60% ma a me questa non pare una cosa degna di un paese serio e ripeto mi guardo bene dall'attribuire colpe nel senso che poi di queste cose qui si dovrebbe discutere a tutti i livelli cioè dal ministero dell'istruzione anzi mi correggo dal premier in giù per arrivare fino all'ultimo dei presidi di scuola qualcosa non funziona anche perché sapevamo che il problema sarebbe stato nei trasporti sono mesi che sentiamo parlare della questione dei trasporti ma mesi nei quali non si è assunta nessuna decisione forte perché? perché è molto più semplice chiudere è molto più semplice blindare tutto rispetto a fare degli investimenti a fare delle scelte anche difficili per poter mettere nelle condizioni dei nostri ragazzi di utilizzare il trasporto pubblico in sicurezza e quindi hanno preferito chiudere tutto però sulla questione del coprifuoco io ritorno perché è vero che non è la questione principale ma se è totalmente inutile imporre quella limitazione della libertà individuale perché hai tanti problemi aggiungere anche quello è questo che non si riesce a comprendere anche se non c'è il locale mi faccio la passeggiata a mezzanotte ma scusate scusate prima dicevano i dati scientifici dicono che la scienza è empirica ma la scienza la seguiamo solamente quando fa comodo a chi vuol chiudere oppure la scienza la seguiamo anche quando ci dice in maniera evidente che alcune scelte sono totalmente insensate ma proseguiamo e le prendiamo ormai Fratelli d'Italia vi supera sulla mozione di sfiducia al ministro Speranza e anche sul coprifuoco voi lo volete alla 23 e loro proprio togliere aspetti lì pubblicità ricominciamo subito dopo aggiungeremo appunto anche un altro ospite che è un imprenditore collegato da Padova tra poco abbiamo avuto una riunione con il presidente della commissione De Manio l'assessore Scaiola della regione Liguria e insieme abbiamo discusso delle opportunità di riaprire la stagione secondo le regole dell'anno scorso dal 15 maggio si può dunque tornare in spiaggia seguendo le regole adottate nell'estate 2020 Scaiola ha sottolineato l'unione tra regioni che al di là del colore politico ha detto fanno squadra per affrontare al meglio la situazione una grande apertura del ministro del turismo Garavaglia il quale ad oggi dà la propria disponibilità non solo ad anticipare l'apertura della stagione del primo giugno così come inizialmente era stato stabilito il 15 di maggio questo per noi è importante perché significa prendere dentro il periodo della Pentecoste che è un periodo importante per quanto riguarda l'arrivo del turismo soprattutto di madrelingua tedesca ma appunto anche la possibilità di utilizzare le stesse modalità gli stessi protocolli che abbiamo utilizzato l'anno scorso per andare in spiaggia quindi ci auguriamo tutti di poter avere un'estate serena l'assessore Caner ha incontrato anche i rappresentanti di Federalberghi Veneto abbiamo parlato di tante cose tra queste la possibilità per le persone che soggiornano in albergo di poter cenare e pranzare anche all'interno delle strutture alberghiere non soltanto all'esterno con un distanziamento che non sia di due metri ma di un metro soltanto consentire il servizio di ristorazione solo all'aperto in zona gialla evidenzia Caner limita molto l'attività pensiamo alle città d'arte dove non tutti i locali sono dotati di plateatici o ai locali di montagna dove le temperature consentono questo servizio al massimo all'orario di pranzo la misura dunque va rivista ribadisce l'assessore regionale così come accadeva l'anno scorso nell'estendere il servizio anche all'interno del ristorante da subito e non dal primo giugno nel rispetto di tutte le misure di prevenzione allora quindi andremo in spiaggia con le stesse regole l'anno scorso che non sono i plexiglass questo almeno ci conforta un po' saluto e ringrazio si è collegato con noi Lorenzo Zambonin imprenditore a una bar gelateria in centro a Padova ecco Zambonin lei riapre lunedì ma perché è previsto insomma comunque questo la conforta immagino e poi voleva fare un ragionamento anche per rappresentare un po' la sua categoria mi pare e credo in particolar modo quanti avranno difficoltà perché riapriranno più tardi no immagino che dice? Buonasera a tutti beh sì allora guardi noi come gelateria ovviamente beh non abbiamo mai essenzialmente chiuso anche se il concetto di restare aperti in questo momento non è proprio la stessa cosa diciamo che già da quando siamo diventati zona rancione almeno adesso c'è qualcuno che si muove perché prima la zona rossa era veramente difficile lavorare ma questo l'era per tutti ma lo prendere in gelato fosseva troppo freddo ancora almeno fino ad oggi diciamo che rispetto al 2020 dove in questo periodo dell'anno scorso eravamo completamente lockdown ma si riusciva un po' a lavorare con il concetto dell'asporto che era una cosa del consiglio domicilio quest'anno comunque fa freddo fa freddo la sciabolata di freddo che è arrivata e di fatti anche nel servizio che ha appena passato si parlava appunto della difficoltà di fare un pranzo all'aperto sul lato piano di Asiago ed è quello che noi come APE perché sono anche consiglieri delle associazioni pubblici esercizi di Padova abbiamo segnato fin da subito cioè il fatto che un'apertura soltanto nei posti con i piatti atti sia all'aperto sia magari più semplice da fare al sud difficilmente qui al nord perché appunto le temperature adesso non lo permettono però speriamo davvero adesso dovrebbe oggi era caldo insomma una bella giornata finalmente speriamo che incida anche su queste varianti e che si rispettino le previsioni perché dovrebbe davvero arrivare il bello non creda che mi sia sfuggito il termine calcistico della sciabolata so che vorrebbe parlare della Super League o della Super Lega per fare contento però senta allora lei ha una rappresentazione una rappresentazione scusi di quello che è la condizione un po' anche delle percentuali di quanti sono quelli che resteranno chiusi quanti sono quelli che possono aprire lunedì insomma per dare qualche qualche cifra anche a chi ci segue poi lei dice ovviamente al sud è più facile aprire qua un po' meno lo diceva anche Vincenzo Forte magari l'altopiano ieri lo dicevamo delle Dolomiti con il sindaco De Carlo insomma quindi prego Zamolin ah guardi allora facciamo ieri avete avuto ad esempio un ospite un caro amico che è Daniele Bogolato lui ha un bellissimo ristorante in centro storico vicino alla nostra gelateria e lui ha cento portici a sedere all'interno ma all'esterno se riesce a mettere forse tre tavolini sarà già tanto sotto i portici perché fisicamente non c'è lo spazio quindi questa è la realtà della maggior parte dei locali del centro storico di una città poi se andiamo fuori dalla città magari deve essere sui colli piuttosto che nei paesi magari locali grazie magari all'aiuto che speriamo che i comuni daranno con l'esenzione del pagamento del patriatico possibilmente al di là del 30 giugno ma speriamo che appunto dino una mano lì magari ci potrebbe essere però non è che uno fa l'imprenditore mettendo fuori due tavoli due sedie cioè uno deve preparare un giardino estivo ci vuole del tempo e ci vogliono anche dei soldi che in questo momento io credo che capiate che scarseggiano scarseggiano molto infatti la cosa che ci fa arrabbiare come categoria sa qual è il fatto che si è passato un anno e dopo il lockdown dell'anno scorso praticamente si è stata una festa collettiva che è durata da giugno fino a settembre lì c'è stato un libera a tutti per tutti in realtà poi però cioè sembrava che nessuno avesse pensato che questo virus potesse tornare non credevamo neanche alla seconda ondata francamente speravamo anche di esorcizzarla in qualche maniera ma in realtà guardi voglio dire allora se devo essere un ragazzino di dieci anni posso pensare che questa cosa non poteva tornare ma in realtà molti dicevano che questo cioè qualsiasi virus non si estingue dopo un giro e quindi mi fa arrabbiare perché abbiamo dovuto accettare il coprifuoco l'anno scorso cos'è cos'è accettato ottobre novembre e l'abbiamo accettato ancora ancora in inverno perché prima con il primo lockdown non si poteva uscire tranne che per lavorare quindi per forza forse si potevano controllare anche le persone poi avendo creato queste zone gialle arancio la gente in generale poteva comunque muoversi quindi è stato introdotto questo coprifuoco che l'inverno forse si è anche potuto accettare ma adesso che senso ha il concetto di mettere un coprifuoco alle dieci alle unici mi dovete spiegare il senso perché per noi che abbiamo delle attività ristorative questo crea un danno perché a parte l'aperitivo lungo che si potrà fare magari in piazza fino alle nove nove e mezza per essere a casa alle dieci non è che poi alle unici questa cosa abbiamo pochi mesi per lavorare d'estate e dobbiamo poterlo fare cioè lei da imprenditore titolare di bar gelateria dice il coprifuoco va tolto ma anche se se la fanno chiudere adesso è un'assurdità chiaramente la mia domanda però se la fanno chiudere alle 22 secondo lei bisogna togliere il coprifuoco allora vuol dire che bisogna spostare anche l'orario ma è ovvio ma allora il concetto è adesso potremmo anche chiudere alle 22 o alle 23 però il concetto del proprio fuoco è deleterio è deleterio perché poi ci sta facendo abituare a una limitazione della nostra libertà che non va bene quindi lei dice Zavonini togliere il coprifuoco o spostarlo più avanti e tirare con sé l'orario di apertura dei locali alla sera questo insomma diciamo no? assolutamente sì adesso poi poi che può mi evitare perché il problema aspetta Zavonini Forte Bonet Sandonà e Tramarini sentiamo un commento il problema è che adesso gli imprenditori devono correre per poter recuperare tutto il tempo perso quindi bisogna dargli anche un respiro di programmazione che li metta nelle condizioni di fare degli investimenti quando questi investimenti possono essere fatti io non vorrei che ci dovessimo ritrovare nella stessa situazione in cui si sono trovati magari i gestori di palestre che vi ricorderete l'anno scorso hanno investito denaro per mettere le palestre in sicurezza e quindi per mettere l'accesso dei loro clienti e poi a un certo punto li hanno chiusi e ancora oggi non sanno quando riapriranno non sanno come riapriranno e si sono trovati magari anche con delle spese con degli investimenti fatti che non recupereranno mai e molto probabilmente faticheranno anche a riaprire molte di quelle attività quindi le attività che possono aprire devono poter essere messe nelle condizioni di lavorare anche senza appunto le limitazioni assurde e ingiustificabili come quelle del coprifuoco che non è la questione del coprifuoco perché ci dispiace tornare a casa alle 10 di sera è perché una limitazione dell'orario che non ha alcun senso perché se io sto seduto alle 9 rispettando le regole le normative tutto quello che ne consegue se sto seduto allo stesso tavolino del locale alle 11 non cambia assolutamente niente almeno potremmo spostarla alle 11 mezzanotte date la possibilità anche ai clienti di muoversi Marco dopo aver ascoltato anche l'imprenditore che idea ti sei fatto poi hai detto Sandonà e Tramarin prego mi sono fatto l'idea che lui come tanti altri che abbiamo ascoltato qui da te a Ringhi in queste settimane è chiaro che cercano di tornare a una normalità a un'operatività la politica in questa fase come in altre devo dire la verità precedente mi sembra sempre un po' in rincorsa cioè c'è sempre il tentativo di tenere in piedi un po' tutto e alla fine si scontenta tutti e non lo so adesso per esempio stasera so che durante la conferenza scusa non la conferenza l'incontro che c'è stato la conferenza stato-regione l'hanno fatta prima nell'incontro che hanno fatto le regioni con il governo proprio il presidente del Veneto Zaia ha messo sul piatto un'altra proposta che al momento non ha avuto alcun seguito ma vedremo cioè quella di dare ai ristoranti il test fai-da-te per consentire ai clienti di farsi il test fai-da-te e risultare negativi e poter entrare questo ovviamente nell'ottica di consentire le riaperture anche dei locali chiusi quelli che non hanno gli spazi all'aperto giardini per intenderci e dare lui dice sostanzialmente ragionamento di Zaia in estrema sintese è quello di dire gli diamo il test fai-da-te il cliente arriva si fa il test il risultato ce l'ha in 10 secondi se è negativo lo fai entrare lo fai mangiare al tavolo all'interno anche nel ristorante che non ha il deorsa è un'idea come tante per cercare di venire incontro alle attività economiche è una semplificazione o è una complicazione non lo so ma sai cosa è un ulteriore investimento adesso Zambonin magari non sarà il caso di Zambonin ma i suoi colleghi ristoratori cioè quindi dovranno acquistare questi test metterli all'ingresso pronti per quanti dovranno venire nel locale al chiuso perché non ha il plateatico no Zambonin dico bene sì sì infatti ovviamente qualsiasi idea può essere valutata pur di riaprire su quello certo non c'è dubbio sì sì per carità però come dire adesso abbiamo una realtà quest'anno che è differente rispetto a quella dell'anno scorso una perché l'anno scorso in questo periodo eravamo ancora tutti chiusi l'anno scorso quando si è riaperto si è riaperto arrivando praticamente a quello che doveva essere diciamo il contagio zero per avere la speranza al tempo perché ci rifacciamo dei dati della Cina che ci potesse arrivare praticamente a debellare il virus abbiamo visto che non è così per carità noi io non voglio passare da quello che dice che dobbiamo riaprire per forza noi dobbiamo cercare di sopravvivere come categoria adesso non sto parlando della mia attività ma parlo in generale di chi la presento ovviamente però siamo consci che la situazione non è facile perché i contatti ci sono io parlo da uno che il covid ha preso e che ha fatto anche un po' fatica perché nel senso sono stato a letto dieci giorni e respiravo anche molto male quindi mi sono anche molto spaventato e capisco bene che ognuno possa avere anche la propria visione perché c'è chi dice guarda per me il covid è stato poco più di una influenza c'è chi invece l'ha vissuta molto male quindi capisco capisco benissimo che la politica debba non dico navigare a vista però voglio dire non mi arrabbio per quello che sta succedendo con l'ultimo governo e negli ultimi due mesi mi arrabbio perché dall'anno scorso non si è voluto praticamente programmare o pensare che ci sarebbe stata un'altra ondata perché tutto l'inverno che abbiamo passato a tira e molla a tira e molla voglio dire quelli sono stati i soldi persi per tutte le nostre attività e quindi adesso ne ho cercato di recuperare ha toccato uno dei nodi vi faccio sentire un'altra cosa e poi appunto come promesso tra Marin e Sandonà cioè abbiamo chiesto eh? era giusto? avevo detto prima lei e poi no era giusto ma tocca a tutti che cosa dicono in strada insomma i cittadini di questa regione del passaggio di governo e cosa si aspettavano da Draghi un veloce giro di opinioni vediamo diciamo che si poteva fare qualcosa di meglio su che fronti? su tutti i fronti sia sanitario sia soprattutto economico i ritardi che stanno facendo sono non sono più sopportabili da noi quindi promosso o bocciato bocciato Draghi per me è come il Messia nel vero senso della parola non vedo nessuna differenza e quindi per me diciamo che poteva anche stare il precedente Conte beh direi che quantomeno si vede un cambio di passo nei primi mesi e speriamo che quello che sembra essere un'organizzazione migliore e anche il fatto che i vaccini forse cominciano ad arrivare possa finalmente portarci fuori da questa pandemia secondo me è un cambio positivo sicuramente rispetto a prima l'ho notato soprattutto dalla chiamiamola così soddisfazione dei parlamentari sono tutti non hanno più litigato sono tutti più d'accordo e questo è un bene insomma per il governo miglioramento un po' c'è stato corretti nel dare notizie non sempre ragione succede qualcosa e loro hanno fatto grandi cose meno litigiosi così così diciamo qualcosa sì qualcosa si aspettava di più forse questo è troppo poco tempo per giudicare io sono deluso per quanto riguarda il covid che purtroppo continuiamo a vivere sotto scacco e quindi è colpa del governo attuale è colpa del governo precedente di solito bisogna sempre trovare delle colpe io dico che purtroppo ancora non abbiamo trovato la quadra dunque io come sapete sono cercato le proposte di Zaia iniziano ad essere sempre più assurde scrivere qualcuno da casa che impari a fare controlli seri e i nostri cari adulti adulati veneti che non rispettano le regole va bene allora avevo detto Tramarini dopo aver ascoltato che cosa dice Zambonin Sandonavi prego veloci perché poi andiamo in pubblicità andremo al risultato del sondaggio insomma molte altre cose prego beh la testimonianza è molto significativa ed è chiaro che è un dovere ascoltare le esigenze peraltro anche espresse in maniera così pacata e costruttiva da parte di un esercente io credo che la cosa migliore da fare dovrebbe essere quella di favorire il più possibile dare margine di manovra anche economica agli enti locali ai comuni nel senso che come anche sottolineato in alcuni passaggi Zambonin c'è necessità da parte sicuramente di alcuni esercenti di rinnovare alcune parti della loro attività per cercare di attenersi alla normativa alle norme di sicurezza per il covid quindi in questo senso favorire maggiormente con le risorse direttamente i comuni dando dei fondi che possono essere utilizzati per agevolare dare incentivi o sostegni economici agli esercenti per aggiornare magari determinate necessità delle loro attività potrebbe essere una soluzione io credo che questo debba essere un passo fondamentale per l'estate so che anche da noi per quello che riguarda l'amministrazione a Padova sono state fatte abbondanti richieste in questo senso le risorse che abbiamo avuto nel corso dell'ultimo anno sono state il più possibile spese per dare esenzioni e cercare di aiutare gli esercenti ma chiaramente non è ancora secondo me sufficiente e quindi un maggior margine di spesa a favore dei comuni a favore a loro volta dei commercianti credo possa essere la soluzione migliore per garantire adesso per esempio bisognerebbe riuscire a trovare il modo di far aprire anche quanti hanno il locale al chiuso come detto più volte e come concedendo loro degli spazi nell'arco di non dico del quartiere ovviamente però le 3-4 strade limitrofe in modo che possano riaprire anche quelli che hanno il locale soltanto al chiuso ecco abbiamo citato l'iniziativa di Treviso spero che lo faccia Giordani a Padova insomma anche dal punto di vista noi abbiamo cercato di liberalizzare già l'estate scorsa anche essendo esempio per il resto delle città venete e l'utilizzo degli spazi all'aperto e io credo che l'assessore Bressa voglia orientarsi in questa direzione potenziando ulteriormente questa iniziativa aggiungo anche che è stata abolita per esempio la tassa cosiddetta tassa sull'ombra che esisteva dal 1931 che imponeva per appunto un'imposta per chi utilizzava determinate strutture ecco è chiaro che l'amministrazione cerca di fare tutto quello che è possibile però si questo tra maniera molto importante secondo me perché concede ad altri di poter aprire già lunedì allora aspetti voglio sentire Sandonà poi non mi ricordo se avevamo la pubblicità o è saltata prego Sandonà ma dico sentito prima di una delle proposte di Zaia che ha fatto stasera in conferenza dei presidenti della regione in conferenza Stato-Regioni e questa è una proposta che va nell'ordine di andare incontro per esempio alle richieste dei pubblici esercenti quelli che sono chiusi è una delle idee del presidente perché come dobbiamo fare se non con un test salivale rapido io ricordo che all'inizio della pandemia il presidente ha fatto fare 2000 tamponi circa nel paese di Vo e si gridava allo scandalo adesso in Veneto quanti ne facciamo al giorno di tamponi rapidi ne facciamo circa 50.000 al giorno giusto e anche questo è un sistema per tenere sotto controllo diciamo la pandemia poi c'è stata la Zaia ha lanciato anche delle altre idee il passaporto vaccinale lo ricordo 4-5 mesi fa quando parlava di passaporto vaccinale per la stagione turistica ricordo che adesso la programmazione e l'apertura della stagione turistica è a metà maggio grazie al ministro Garavaglia mentre l'anno scorso abbiamo aperto il primo luglio primo luglio abbiamo aperto le attività diciamo in generale nelle spiagge le attività e le attività turistiche quindi credo che qualche passino avanti si sia fatto poi in periodi eccezionali ci vogliono scelte al di fuori del normale quella che devono fare i comuni che è stata una proposta al sindaco di Treviso se non mi sbaglio come presidente di Ancivento è quella di chiudere degli spazi pubblici per un certo periodo per dare la possibilità ai pubblici esercizi di mettere fuori delle sedie e di poter lavorare anche coloro che non hanno spazi al proprio interno ecco queste queste sono le cose che si può cercare di fare in un periodo di transizione come questo in cui stiamo andando gradualmente verso la riapertura che sono chiusi da un anno e mezzo e di cui nessuno parla per esempio gli spettacoli gli spettacoli all'aperto oppure coloro che vanno nelle fiere nelle sagre quella gente lì non lavora più da un anno e mezzo e sono all'aperto come si diceva prima si dice da autorevoli e ultimi studi sono stati fatti le possibilità di contagio all'aperto sono ridotte mi sembra all'1% rispetto agli spazi 0,1% il governo dovrebbe prendere un atto perché altrimenti continuiamo con le proposte che sono fermi e a volte non hanno presenze io mi auguro che la Lega possa incidere al governo per far comprendere innanzitutto al Ministro Speranza questi ragionamenti di buon senso ragionamenti di buon senso perché fino adesso i risultati non si sono visti perché è vero che il mondo dello spettacolo dell'intrattenimento e le palestre una serie di settori sono stati praticamente uccisi e falcidiati per decreto e bisogna renderci conto che anche in questa situazione io mi chiedo perché in zona gialla quindi con le RT sotto una determinata soglia si poteva pranzare e cenare all'interno dei ristoranti ora nella stessa situazione si può fare solamente all'aperto creando poi questi disastri dal punto di vista della gestione dell'attività e io quindi posso comprendere e auspico che i sindaci si poteva pranzare ma non cenare perché si chiudeva alle 18 se vi ricordate però si poteva pranzare all'interno quindi hanno sbanderato queste riaperture ma fondamentalmente queste riaperture sono più restrittive di quanto lo fossero prima quindi bisogna anche stare attenti poi con i termini e con gli annunci Speranza dice se lo avete citato e andiamo in pubblicità fiducia e prudenza per non vanificare gli sforzi fatti facciamo i passi avanti concordati diamo un primo messaggio di fiducia al paese dice Speranza ma accanto alla parola fiducia ci vuole la parola prudenza per non vanificare gli sforzi fatti fino ad adesso la parola fiducia non usa spesso Speranza questi ultimi giorni non usa sfiducia sarà preoccupato che vi farebbe più contenti allora pubblicità ci rivediamo tra poco Noi addirittura lo faremo in dieci giorni con l'aiuto ci troviamo venerdì perché poi i medici famiglia chiuso il fronte over 80 ci daranno una mano e quindi dieci giorni è il tempo esatto per fare tutti gli over 70 La tabella di marcia dell'US2 è serrata con il direttore Benazzi che sugli over 70 accelera anche grazie al supporto fornito dai medici di base che dopo gli over 80 allettati si concentreranno sulla nuova classe di età il virus d'altronde continua a correre come dimostra anche il dato di giornata delle scuole Un po' si sono preoccupato anche perché anche oggi abbiamo 25 nuove classi che sono andate tra quarantena e in osservazione quindi è chiaro che ogni giorno potenzialmente aumentiamo sempre di più A questo si aggiunge il caso prettamente nostrano del sindaco medico di Santa Lucia di Piave Riccardo Sciumschi sulla gratticola per aver partecipato domenica alla manifestazione dei contenuti Novax di Conegliano Io l'ho convocato venerdì spero che si presenti faremo dei ragionamenti insieme quindi verificherò se lui è disponibile a vaccinarsi se non lo è chiaramente lo devo deferire e naturalmente annullare completamente la convenzione che lui ha con l'azienda sanitaria con la regione Un rendezvous Un rendezvous proprio Allora io so che su questo forse non ci troveremo d'accordo la politica non lo dirà mai ma insomma Marco volevo affidarmi a te ma su questo dicevo sono certo che abbiamo idee diverse ecco è da più di qualche giorno che per esempio Benazzi ma sta un po' nei numeri racconta poi dice troppo presto dare una valutazione della riapertura delle scuole insomma quella è una preoccupazione in parte diciamo ammorbidita da questo intervento del governo che dice almeno al 60% da lunedì nelle regioni gialle e arancioni che avrebbero visto il 100% insomma per essere chiari e un po' si viene incontro alle difficoltà delle regioni che dovevano trovare il trasporto pubblico che abbiamo detto ieri sera sono circa 1000 bus almeno 500 insomma però riaprono le scuole e ce ne sono molte con contagi aumentano che ne pensi? Ma allora penso che c'è un'obiezione di fondo a questo a questa teoria e cioè il fatto che l'obiezione che è stata posta per la riapertura totale delle scuole non è stata di natura sanitaria non si è detto non riportiamo i ragazzi sui banchi perché sui banchi si contagiano aumentano i contagi ci sono i focolai la motivazione è stata logistica cioè non riportiamo i ragazzi sui banchi perché non ci sono i bus per portarli è una cosa un po' diversa tra l'altro io l'anticipavi tu su questo tema della scuola io sono diciamo così un aperturista convinto perché i dati che ci ha dato finora la regione dei monitoraggi non è vero ci sono dei focolai ci sono dei casi però sono molto contenuti sono di gran lunga inferiori diciamo così ad altre fonti di contagio che poi sono le famiglie anzi ci dicono gli esperti e io a loro mi rifaccio perché non sono io che vado poi materialmente nei database a fare le verifiche ma però sono uno dei giornalisti che tutte le mattine a mezzogiorno va a ascoltare la conferenza di Zaia quindi gli esperti li sento tutti i giorni e loro ci dicono che i ragazzi che arrivano positivi in classe il virus non l'hanno preso in classe l'hanno preso a casa dai familiari e l'altra cosa che dico rispetto a questo è che i protocolli di sicurezza nelle scuole stanno funzionando cioè i percorsi diversificati le classi separate i luoghi delle ricreazioni separati i bagni igienizzati le mascherine gli igienizzanti funzionano quindi voglio dire ripeto con il massimo rispetto delle esigenze di tutti ci si pone un sacco di problemi rispetto ai bar ai ristoranti alle palestre è tutto correttissimo non dico di no nel senso che poi ognuno come dire guarda anche al suo orto avendo il diritto di farlo non lo dico criticando questo però rispetto alle scuole invece lì c'è sempre un po' di un atteggiamento come dire vabbè però l'ha detto anche il sindaco di Treviso Conte nell'intervista che ha fatto con il mio giornale sabato su domenica quella che citava prima Sandonà anche lui ha detto questo beh insomma se teniamo anche la DAD fino a fine anno a me non pare questa grande catastrofe forse a lui no però magari i ragazzi si perché non si rende conto di cosa vuol dire evidentemente questo è il problema perché io sono dalla parte di Bonet su questo sono aperturista convinto per quanto riguarda le scuole perché non si può più andare avanti in quel momento ecco Zamorin lei che ne pensa invece perché si voleva riaprire al 100% poi abbiamo visto le percentuali cambiate un po' oggi e invece si cambia o meglio si va un po' più a rilento sulle aperture per quanto riguarda i locali come quello che abbiamo citato i ristoranti al chiuso Zamorin dico non Tramarini dopo arrivo subito Zamorin allora intanto aver sentito Zaya qualche giorno fa e da lì si era posto il problema del trasporto pubblico perché sia quanto sembra ma io me lo immagino insomma se quando devo montare su un autobus piuttosto che su un treno che è carico di persone voglio sfidare chiunque anche se si sta meno di un quarto d'ora a non ammalarsi quindi anch'io penso che non ci sia mali a scuola ma che ci sia mali a casa ma lo penso anche perché durante questo periodo in cui le persone comunque potevano andare a trovare gli amici ci sono trovati a casa in questo periodo a mangiare tra di loro quindi in realtà è lì che probabilmente i contagi si sono diffusi non tanto nella scuola certo che se io devo poi avere il bambino che va a scuola io ho un bambino che ha sette anni in seconda se magari si ammala non è tanto perché si ammala perché per esempio mio figlio l'ha presa però magari devo stare attento a non portarlo dai nonni perché potrebbe contagiarli quindi ci vuole anche qui del buonsenso ripeto non è il problema della scuola secondo me la scuola da quanto che capisco si può anche aprire il problema sono gli altri vicoli di contagio che sono il prima cioè quello che si fa a casa e quello che si fa nel viaggio allora intanto aggiungo un dato non l'abbiamo citato ma insomma era un po' la notizia del giorno lo sapete insieme alle altre c'è quella di Johnson & Johnson di fatto ritorna in campo Figliuolo poco fa ha ribadito come da domani ricomincia la distribuzione viene consigliato sopra i 60 anni il percorso l'avevamo detto è lo stesso identico di fatto di AstraZeneca il passaporto sanitario è gratuito se è gratuito perché no ho visto molto dibattito su questo ora parliamo di un'altra cosa ci arriviamo subito che invece è quello del certificato verde del passaggio tra regioni di colore diverso ci arriviamo subito scuola Sandonà e Tramarinca coroner intervenuti voglio arrivare appunto a quest'altro tema prego ma la scuola credo che è stato già detto tutto la scuola presenta anche la scuola delle problematiche le regioni chiaramente si sono trovate impreparate ma perché perché la si è previsto un'apertura la domanda la faccio una provocazione se dobbiamo fare il rischio scegliere la strada del rischio ragionato e ripeto non sono d'accordo sicuramente non sono d'accordo con molti anche di quelli che ci seguono da casa se deve essere rischio ragionato rischiamo più sulle imprese sul riportare al 100% o a percentuali alte gli studenti a scuola si rischia un po' dappertutto insomma questo discorso si rischia un po' dappertutto poi il trasporto scolastico attualmente è previsto al 50% chiaramente i mezzi non ci sono né i mezzi né c'è la sufficienza per quello che riguarda i mezzi pubblici neanche utilizzando diciamo come si diceva prima i mezzi privati quindi anche questo ha avuto bisogno di una certa organizzazione ma con questo eravamo partiti anche a settembre alla stessa maniera e poi comunque i ragazzi alla fine sono arrivati a scuola e si è organizzato sia il trasporto scolastico che anche il servizio scolastico in presenza e anche diciamo come diceva prima Marco Bonnet anche i protocolli scolastici tutto sommato hanno funzionato bene certo più la gente si muove più c'è occasione di incontri più c'è occasione di trovarsi fra le persone più chiaramente il virus circola ma questo è un dato è un dato di fatto un dato reale io credo qualcuno scriveva poco fa gli sms se apriamo meno locali meno occasioni c'è il coprifuoco le persone si concentrano di più in quei pochi locali o aree che sono aperte quindi sono più assembramenti anche questo può essere vero però dato di fatto che nell'ultimo periodo la curva è andata decisamente in discesa stiamo andando verso una fase discendente che spero ci porterà durante tutta l'estate fino a settembre fino a settembre il problema vero è che a queste restrizioni non si sono aggiunti invece di una campagna vaccinale diciamo di tipo forte come era stata prevista a fine dicembre che erano state fatte delle previsioni di arrivo dei vaccini che poi non si sono verificate siamo nella seconda parte di aprile le regioni stanno vaccinando a tutto spiano il Veneto come ha ribadito il presidente è davanti a tutte le altre regioni come percentuali di vaccinazioni sul consegnato sul prodotto ricevuto però il problema è noi ne facciamo attualmente 35.000 di iniezioni al giorno abbiamo la possibilità di arrivare ben oltre alle 50 fino a 70 80.000 questo è il Veneto e questa era la programmazione del Veneto già a partire da marzo il problema è che non ci sono state consegnate le dosi che erano state promesse in base ai contratti che sono stati fatti dall'Unione Europea che in parte sono anche secretati sappiamo le problematiche che hanno avuto questo che ha avuto questo tipo di rapporto fra le case produttici e l'Unione Europea e poi c'era una questione due mesi fa che non era una questione banale che aveva posto il presidente Zaia che era quello che i vaccini si trovavano nel mercato si trovano nel mercato ci sono paesi che stanno vaccinando di più del nostro paese dell'Italia non cito la Gran Bretagna e gli Stati Uniti che hanno fatto che sono avanti minimo di due mesi rispetto a noi ma ci sono altri paesi che stanno vaccinando di più anche dell'Unione Europea e che evidentemente stanno ricevendo e trovando dei vaccini sul mercato quello che diceva Zaia come ha fatto il Veneto a comprare 21 milioni di mascherine nel periodo di massima crisi che è stato fra marzo e aprile dell'anno scorso le ha trovate sul mercato tramite gli intermediari le ha comprate molte di più rispetto alle altre regioni così come poi hanno fatto anche gli altri così come poi ha fatto l'ex commissario Alcuri la stessa maniera si potevano portare a casa più vaccini e su questo non ci sono state date delle risposte si è detto a Zaio fermi tutti perché stai dicendo una castroneria il Veneto va più avanti rispetto alla Puglia rispetto alla Sicilia cosa state facendo le dosi si potevano trovare a un prezzo anche di mercato questa è la verità Tramarin che dici della scuola allora io rimango fermamente convinto del fatto che dopo tantissimi mesi di grandi difficoltà e di didattica a distanza per gli studenti sia veramente fondamentale tornare a scuola perché è venuta a meno anche la qualità dell'istruzione nel nostro paese gli studenti l'hanno lamentato ed è un problema veramente fondamentale da affrontare perché si tratta delle generazioni del nostro futuro e quindi dobbiamo cercare nonostante le difficoltà di coltivarla al meglio perché questo avvenga con continuità e non si debba tornare indietro come tutti auspichiamo io credo che ci siano due aspetti fondamentali di cui tener conto il primo è quello dello screening perché concordo con gli altri ospiti quando sostengono che è molto più probabile che uno studente si infetti non a scuola ma fuori dalla scuola ma che possa portare il virus in classe quindi dovrebbero fare secondo lei quel tampone ogni settimana in tutte le classi che ha proposto Abrignani del CTS sì sarebbe auspicabile per esempio io che sono dell'università di Padova noi facciamo i test salivari e una volta ogni circa 15 giorni questa cosa garantisce uno screening adeguato nel luogo di lavoro per tutti ed è un elemento di sicurezza lo dico comunque questo aspetto al di là del tipo di test l'importante è riuscire a fare uno screening che sia ben strutturato perché ma i test salivari sarebbero veramente diciamo la soluzione quante volte l'abbiamo detto però se arrivassero su vasta scala se si potesse avere per tutti questo tipo di test lei lo fa a casa lo fa in università come funziona praticamente alla mattina quando ci si sveglia si deve masticare un battufolo di cotone quindi ce l'ha lì a casa sì ci viene consegnato e ci danno una data entro il quale bisogna conseglierlo al punto di raccolta negli uffici che sono diffusi fra i vari punti e le varie sede dell'università e quindi quando uno si sveglia non si deve lavare i denti fa subito questa operazione di masticazione di questo battufolo di cotone lo mette dentro la provetta e poi lo porta al punto di raccolta quindi lei non sa l'esito ho capito bene no nel giro uno o due giorni poi via mail arriva l'esito e il tampone salivare è assolutamente comparabile a quello molecolare quindi quello però esatto questo è importantissimo cioè diciamo intanto il risultato ce l'ha in due giorni purtroppo lei lo fa tutte le mattine quindi vi consegnano faccio una volta ogni circa 10-15 giorni mi arriva un mail che mi dice chiedo che mi dice di andare a tirare la provetta bene ma manco a farla apposta il test salivare che fine ha fatto perché non sono in commercio secondo me se ne è parlato anche lo stesso Abrignani l'ha detto come componente del CTS l'altro giorno in un'intervista mi pare un repubblico al corriere dicendo si può fare con screening ogni 10-15 giorni per tutti gli studenti tutte le classi però questi sono i tempi perché se invece andiamo a fare i tamponi rapidi come la proposta di farli davanti al ristorante per entrare a mangiare una pizza sappiamo anche bene che i tamponi rapidi hanno una fallibilità ma se sono quelli di terza generazione ma ancora siamo a quei livelli sulla fallibilità del test quindi dobbiamo anche stare attenti a calare le proposte che si fanno poi nella realtà perché io immagino la gente che fa la fila davanti a un ristorante a fare il tampone cioè bisogna calare le proposte sulla realtà io posso capire che ce ne possono essere un'ampia gamma di proposte però poi bisogna fare in modo che siano anche perseguibili queste proposte senta Travarì ne ha uno in canna da farci vedere in casa no? sì vi faccio vedere la busta perché lo devo vado a prendere Marco che fine hanno fatto perché tu sei assiduo frequentatore della sala stampa della protezione civile a Marghera quindi se ne hai riparlato anche qualche settimana fa però quelle sarebbero una soluzione semplice anche che fine hanno fatto i salivari i salivari dici? sì ma sì erano quelli che stava sperimentando soprattutto il professor Plebani il direttore del laboratorio dell'azienda ospedaliera di Padova guarda io ti dico la verità ho perso un po' il conto nel senso che ormai tra annunci prima, seconda, terza e quarta generazione sperimentazioni che sono partite e però non sono arrivate ho perso un po' il conto per tenere il cordo un'altra ti sblocco un ricordo come si dice no? cioè il baby tampone te lo ricordi il baby tampone poi nelle sue variabili di baby tampone rapido baby tampone rapido fai da te cioè è chiaro che l'innovazione tecnologica va farmaceutica è rapidissima e ce ne sono continuamente di nuovi dopodiché guarda lo dico essendo tra coloro che sono costretti a testarsi tutte le settimane perché come tu saprai bene magari gli ospiti chi ci ascolta non lo sa chi frequenta la sala stampa di Marghera dove il presidente Zaia fa la conferenza stampa tutti i giorni deve sottopor quindi come me come giornalista devo sottopormi a testa tutte le settimane tutti i lunedì francamente io ho dei dubbi ma questa è la mia opinione personale quindi fallibilissima e che conta meno di quella di grandi esperti che il ritorno alla normalità possa essere legato al testarsi ogni due giorni ogni tre giorni ogni settimana ogni volta che si entra in classe ogni volta che si va a mangiare la pizza è un incubo onestamente e non credo che questa possa definirsi una normalità a differenza di quello che leggono i messaggi che scorrono in sovraimpressione invece io credo che la normalità si acquisti col vaccino sottoponendosi a un'iniezione a un richiamo a distanza di settimane e poi insomma questo ci dicono gli esperti dovrebbero garantirci la tranquillità allora Tramarilla ha preparato il test salivare dell'università di Padova allora eccolo là fermo lì Toni ci fai vedere il risultato del sondaggio quindi coprifuoco che dicono i nostri telespettatori stasera resta alle 22 giusto? no per il 64,1% mi immaginavo che era una differenza maggiore però insomma il 64,1% dei nostri telespettatori stasera dice che immagino sia bene o toglierlo o almeno spostarlo traslarlo in orario allora come funziona adesso non lo deve fare se no lo spreca che immagino oppure lo deve fare al mattino però qui dentro c'è un pezzo di cotone che io devo masticare quando mi sveglio poi c'è l'etichetta col codice a barre ok che io devo attaccare alla provetta lo metto dentro questa busta di plastica dopo averlo messo dentro la provetta e lo consegno al punto di raccolta nel giro di uno o due giorni normalmente un giorno mi arriva il pdf con l'esito finora sempre negativo per fortuna qui attualmente nella busta ce n'è uno quindi lo deve consegnare le prossime ore attualmente nella busta c'è il test che ha fatto nella busta c'è il test da fare che io segnerò domani mattina perché il prelievo è previsto per domani mattina per cui quando mi sveglierò prima di fare colazione domani farò test sì volevo però dire l'ultimo punto rispetto alla scuola che è molto importante quello che io l'altro tema è chiaramente quello del trasporto che è già stato toccato anche questa sera e io credo sia veramente assurdo mi prometto di dirlo così che dopo mesi in cui di fatto si sapeva che bisognava tornare prima o poi in presenza per tutte le ragioni che abbiamo detto delle difficoltà della DAD eccetera le regioni non si siano premurate di provare a fare dei piani adeguati e questa cosa riguarda il Veneto perché riguarda anche il Veneto ma non riguarda solo il Veneto riguarda la Lombardia riguarda anche la Toscana quindi oggettivamente anche indipendentemente dal colore politico di chi governa e lo dico anche perché si sa che il governo ha stanziato 390 milioni per l'appunto per il tema dei trasporti per le scuole alle regioni e non veramente io non capisco perché tre giorni prima della riapertura le regioni si facciano trovare impreparate questa cosa è assurda perché è evidente che se ci sono dei contagi in classe dipende moltissimo dal fatto che se un ragazzino prende il virus in casa e sta assembrato all'interno di un autobus che comunque è chiuso e possa contagiare dei compagni e poi anche i professori è una cosa che è accaduta per esempio c'è regioni impreparate si dovevano stradare sul fronte trasporti no ma scusatemi ma scusatemi non devo fare non devo fare né l'avvocato di Zaia tra vari aspetti che se no non si capisce nulla scusate io non voglio fare né l'avvocato di Zaia né degli altri presidenti di regione però in una gestione dell'emergenza sanitaria gestita centralmente a livello nazionale non si può dire dopo mesi che sapevamo benissimo che la questione trasporti era un nodo cruciale con tutte le difficoltà che già hanno avuto le regioni dire le regioni non hanno fatto nulla ma qui è il governo centrale che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo doveva intervenire in supporto delle regioni e magari stilare un piano che fosse organico anche a livello nazionale e che andasse poi su ogni singola regione a capire quali erano i problemi da affrontare non si può dire è la colpa delle regioni perché poi le regioni ti dicono beh allora la colpa del 95% dei problemi è del governo poi è pur vero che ormai quasi tutte le forze che governano le regioni sono anche nel governo e quindi si crea un caos inenarrabile aspetta di corte Sandorè cosa dice andiamo in pubblicità subito dopo ma dico che siamo ripartiti qui trasporti scolastici a settembre siamo ripartiti adesso e il problema è che non ci sono mezzi sufficienti per la quantità di studenti che partono la mattina tutti alla stessa ora si erano fatte diverse proposte si hanno fatto le proposte di scaglionare gli ingressi di scaglionare le uscite però poi alla fine siamo rimasti che adesso ci stiamo organizzando per ripartire diciamo nei prossimi nei prossimi giorni allora ci fermiamo a pochi istanti poi voglio che discutiamo insieme del certificato verde che cos'è questo questo pass per muoversi da regioni che cosa implica chi ce lo dà insomma scopriremo un po' insieme le ultime novità della bozza di oggi tra poco allora gli ultimi minuti insieme voglio ricominciare da questo certificato verde il decreto prevede appunto come sapete anche la possibilità di spostarsi tra regioni anche tra colori differenti bisogna avere questa certificazione verde un documento che potrà essere cartaceo o digitale sarà valido per sei mesi per coloro che sono vaccinati o che sono guariti dal covid mentre avrà una durata di 48 ore per chi ha fatto un tampone con esito negativo appunto nelle 48 ore precedenti a rilasciarlo potranno essere le strutture che effettuano somministrazioni gli ospedali in cui si è stati ricoverati per il virus o il medico di base i centri e le farmacie autorizzati per i test in un paese che è unico e va bene abbiamo visto anche le differenze degli effetti sulle curve dei colori adesso sta un po' peggio lo dicevamo poco fa il sud insomma era così necessario non poteva bastare l'autocertificazione questo ci complica ulteriormente la vita cosa ne pensa Sandona Forte e poi tra Marine e Bonet è un'idea che ha lanciato Zaia ancora qualche mese fa è legata anche alla possibilità di spostamento anche per lavoro oltre che per altri motivi e anche si parlava di questo pass diciamo che poteva garantire lo spostamento anche non solo da regione a regione ma anche da paese a paese per potersi muovere e poter tornare finalmente alla vita normale ecco questa è l'idea diciamo di base del pass verde ecco beh io sull'idea proprio del pass per gli spostamenti ho qualche perplessità perché? ho qualche perplessità per il semplice motivo che è subordinato fondamentalmente poi a cosa? al vaccino in sostanza oltre che al tampone quindi non essendoci l'obbligo vaccinale non essendoci l'obbligo vaccinale vi parla uno che è favorevole al vaccino quindi sono proprio in punto di principio sto facendo questa disquisizione non essendoci l'obbligo vaccinale subordinare la possibilità di spostarsi e quindi anche le limitazioni alla libertà individuale all'ottenimento di un pass che è subordinato poi alla vaccinazione la cosa mi rende perplesso per il semplice motivo che gli spostamenti tra regioni devono essere concessi a tutti i cittadini se lo spostamento è possibile e non soltanto a chi ha determinate caratteristiche mentre gli altri che magari sono dubbiosi legittimamente sul vaccino o sulla possibilità di sottoporsi a dei test se non ci sono degli evidenti sintomi di covid questa cosa mi lascia perplesso perché altrimenti creeremo delle categorie che possono spostarsi e altre che non possono spostarsi perché? perché magari bisogna poi sottoporsi anche se non c'è un obbligo alla vaccinazione e ribadisco che io comunque sono favorevole alla vaccinazione però in punta di diritto questa cosa mi lascia perplesso quindi non sono un fan certo dei pass per poter esercitare delle libertà che sono costituzionali allora vorrei rispondere a questo semestre perché l'avevamo detto anche a inizio puntata come una delle novità degli ultimi minuti che è previsto anche l'arresto in questa bozza se viene falsificato il certificato questo certificato verde di cui stiamo parlando allora e abbiamo detto Tramarine Bonet e poi se Zamorini anche lui vuole dire qualcosa su questo certificato prego Tramarine io credo che questa soluzione non debba essere vista solo nell'ottica della dinamica italiana ma deve essere definita anche per il futuro in un'ottica europea sappiamo che c'è un dibattito anche in Europa circa questo tema e se l'Italia si fa trovare pronta è meglio nel senso che uno dei grossi problemi che abbiamo avuto soprattutto per quest'ultima ondata come sappiamo tutti è stato quello della variante inglese quindi il fatto di poter dare questo strumento credo che possa essere uno strumento di tutela per il futuro e quindi da questo punto di vista se ci si fa trovare pronti si cerca di far funzionare adeguatamente questo strumento man mano che la vaccinazione procede credo che possa essere un elemento di sicurezza per tutti ecco questo è il mio pensiero a questo riguardo e se verrà declinato anche in un'ottica europea saremo tutti più sicuri anche rispetto all'arrivo di varianti dall'esterno così almeno l'Europa conferma Marco Bonet ma io credo che alla fine come spesso accade la politica dovrà adeguarsi all'input che arriverà dall'economia e cioè in questo senso ci saranno delle attività delle che richiederanno questi tipi di passaporti vaccinali io credo che Zai abbia ragione quando dice che per esempio alcune compagnie aeree chiederanno il passaporto vaccinale per imbarcarsi perché nessuno vorrà correre il rischio che si scateni un focolaio all'interno di una fusoliere di un aereo che magari deve fare Roma New York un viaggio intercontinentale purtroppo molto banalmente la persona che vorrà prendere l'aereo per andare da Roma a New York dovrà farsi il vaccino se non solo vuole fare non andrà a New York tutto qua neanche il tampone del 48 ore precedenti cioè tu dici che saranno un po' più o magari sì per carità magari ci troveranno delle soluzioni però guarda Ferdinando chi non vuole sottoporsi a questo tipo di cose contesta tutto cioè nel senso che adesso stiamo assistendo al tema del vaccino ma c'è stata tanta gente nei mesi scorsi che non voleva sottoporsi al tampone che contestava il tampone genitori che si opponevano al fatto che i figli a scuola fossero sottoposti al tampone e per carità di Dio rientra tutto nelle libertà nella facoltà dei singoli se uno legittimamente non vuole farlo ma non possiamo mica costringerlo ma non possiamo nemmeno limitargli la libertà di spostamento perché ha deciso di non farsi il vaccino ma chi l'ha detto questo chi ha detto che non si può fare chi ha detto che non si può limitare cioè non è che le forti stiamo scherzando ma adesso la libertà di un individuo è legata alla vaccinazione contro il covid ma scusate ma scusate facciamo finire Marco Bonet e dopo tocca a Forte prego Marco ecco finisco stavo dicendo perché se no non sento il collegamento scusa cioè la libertà vaccinale è un fatto e nessuno la mette in dubbio cioè una persona è libera di vaccinarsi o non vaccinarsi ma chi è una persona che non fa il vaccino possa fare le stesse cose di una persona che fa il vaccino questo non è possibile e non è che non è possibile perché il covid ha cambiato il mondo cioè è un tema di cui qui si è già ribattuto molto e vado dritto al punto dei punti cioè il grande tema del personale medico infermieristico una persona un infermiere o un OS che lavora con gli anziani di una casa di riposo ovvero 80 fragili che se prendono il covid muoiono la mia opinione è che è libero di non vaccinarsi ma se non si vaccina non fa l'infermiere o l'OS dentro in una casa di riposo si cerca un altro lavoro perché non mette a rischio mia mamma o mia nonna una persona anziana perché lui deve essere libero di decidere è libero di decidere va a fare un altro mestiere e questa cosa qui si applicherà a tanti altri campi della nostra vita quotidiana secondo me perché dopo il covid e finisco le cose sono cambiate non è più il mondo di un anno fa o di due anni fa questa è la posizione di Bonet che se lui la vuole ritene legittima mi sta anche bene ma dire che se un soggetto non vuole vaccinarsi contro il covid allora deve essere limitato nei suoi diritti costituzionali o non può spostarsi come tutti gli altri cittadini mi sembra francamente aberrante io non voglio piegarmi a questa logica non voglio pensare che debba essere così che le nostre libertà individuali per via di una pandemia vengano contratte improvvisamente e debbano essere subordinate all'iniezione di un vaccino questa cosa non è comprensibile e non è accettabile per quanto riguarda la questione dei sanitari posso capirla ma che io non possa spostarmi da una regione all'altra se decido legittimamente di non farmi il vaccino perché magari ho 30 anni e decido che il covid rischio il covid visto che poi dal punto di vista sanitario sappiamo bene che di solito il rischio è basso a quel punto non posso più muovermi cioè la mia libertà individuale è totalmente contratta è allucinante questo non è accettabile poi chiediamo cosa morì prego sì cioè secondo me c'è proprio una differenza di vedute evidente tra me e forte che secondo me si basa su questo su questo punto cioè lui mette la libertà individuale davanti a quella collettiva cioè lui dice io devo essere libero di spostarmi non c'è libertà collettiva anche se c'ho il virus e non mi voglio vaccinare io devo essere libero di girare per tutta Italia e se è del caso portare il virus stai dando un'interpretazione però ma sta dando un'interpretazione che è totalmente sua invece io metto la libertà collettiva davanti alla libertà del singolo ma assolutamente no per cui se tu singolo metti a repentaglio la libertà collettiva tu non ti sposti allora scusate io l'interpretazione di quello che dico non l'accetto da nessuno no vabbè ma insomma per il semplice motivo che non abbiamo semplicemente detto che uno non può essere limitato nella sua libertà individuale subordinando la vaccinazione o meno cioè questa cosa non è accettabile perché se uno non ha il covid e sta bene può spostarsi tanto quanto gli altri non che devi farti il vaccino per forza e ve lo dice uno che è vaccinato ma è allucinante questa cosa è allucinante questa impostazione e sì che abbiamo due vedute totalmente diverse perché se accettiamo una contrazione della libertà personale in questo modo per una pandemia che sappiamo si andrà ad esaurire la prossima volta cosa facciamo ma è vaccinato da covid anti covid e come mai è giovane paziente fragile ah paziente fragile allora Zaborin voleva dire qualcosa anche lei dove siamo in chiusura ma insomma sul pass prego intanto sono ben capito questo questa sorta di pass verde avrà tre diversi campi cioè o si è o si è già contato il virus e si è guariti o si è stati vaccinati o si fa questo tampone a due giorni prima quindi in realtà il concetto della limitazione di libertà secondo me non c'è c'è nel senso io sposo quello che ha detto Bonner fino adesso anche perché vi faccio un esempio riguardo il fatto di essere sani oppure no io quando ho preso il virus ho fatto il tampone quando ancora stavo bene perché avevo avuto una persona con la quale mi ero stato vicino che l'aveva avuto se non avessi fatto il tampone prima di sentire i sintomi io probabilmente per i due giorni successivi sarai andato in giro e avrai contagiato chiunque quindi il concetto di sentirsi bene è tutto molto relativo perché questo è un virus molto sudolo e non te ne accorgi nel tempo in cui te ne accorgi tu hai già contagiato molte altre persone quindi il concetto della libertà assoluta per tutti in questo momento ha un valore differente e poi voglio dire adesso tutte quelle persone che si stanno dando da fare cioè il concetto come diceva Bonnet in questo momento possiamo anche farne un discorso di lana caprina qui in Italia dove possiamo disquisire di tutto perché è una cosa che piace a molti disquisire però in realtà il resto del mondo poi si dà da fare e quando ti diranno che non potrai prendere un aereo o un treno e non potrai valicare un confine se non sei vaccinato o se non hai un certo tipo di passaporto ti adeguerai poi potrai protestare finché vuoi ma sarai soltanto uno che protesta dando la colpa al mondo che è cambiato e bisogna capirle queste cose Simone siamo in chiusura è tardissimo Simone Merlo riesci a farmi rivedere l'ultimo sms perché io so adesso scateniamo chissà però secondo me questo è un tema sappiamo che anche chi è vaccinato comunque può dopo aver sviluppato gli altri corpi in teoria quello che abbiamo capito dagli studi almeno fino ad adesso è contrarre il virus senza sviluppare la malattia di certo non in forma grave e in quota minore e in quota minore con trasmettere ma su questo non c'è neanche certezza sicuramente con una carica virale più bassa insomma su questo non voglio addentrare però che chi è vaccinato sviluppato gli anticorpi possa finalmente non indossare la mascherina secondo me è un tema del quale non si parla grazie Vincenzo Forte grazie a Luciano Sondonato grazie a tutti Marco Bonet Tramarin e Zambonino grazie a tutti per essere stati con noi ci vediamo come sempre lunedì e martedì prossimi buonanotte da Ringa